Tra i dirigenti della regione Sicilia e un imprenditore dell'isola sono indagati nell'ambito dello scandalo sull'eolico che ha investito il governo nazionale, l'autolega in questo caso, e soffia forte anche verso la Sicilia. Paola Arata, il consulente di Matteo Salvini per le politiche energetiche, lunga per un periodo tra i papabili a guidare la Rera, l'autorità di regolazione dell'energia. In quota lega sarebbe un prestanome di Vito Nicastri, il re dell'eolico, che avrebbe messo a disposizione di Matteo Messina Denaro, il boss superlatitante di Cosa Nostra e sue competenze nelle rinnovabili. L'indagine della procura di Palermo, che vede coinvolto anche il sottosegretario della Lega, Armando Siri, svela un retroscena inquietante, i nuovi presunti tentativi di Cosa Nostra di investire in un settore da tempo a forte rischio, e di farlo potendo contare su colletti bianchi di altissimo livello. I magistrati accusano Arata, già deputato di Forza Italia tra il 94 e il 96, e il figlio Francesco di gestire solo formalmente un reticolo di società operanti nel mercato delle energie rinnovabili, ma di fatto partecipato occultamente da Nicastri vero regista delle strategie imprenditoriali, un uomo che lo stessa Arata definisce la persona più brava dell'eolico in Italia. Ad Arata, padre e figlio, viene contestata l'aggravante di aver agevolato la mafia. Le competenze e le risorse economiche di Nicastri, condannato per corruzione e truffa, ha processo per concorso esterno alla mafia il cui patrimonio è stato oggetto di confischi milionari. Insieme alle conoscenze di Arata, un mix letale che avrebbe permesso alle società di concludere affari, soprattutto in Sicilia. Grazie anche a due funzionari della regione che sarebbero stati corrotti, il dirigente Alberto Tinirello e il funzionario Giacomo Causarano entrambi al servizio di autorizzazione e concessione del Dipartimento dell'Energia. Al primo sarebbe stata data una somma di denaro che gli inquirenti non sono riusciti a quantificare. A Causarano sarebbero stati pagati 11.000 euro attraverso il figlio. Ma non solo. Grazie alla sua passata militanza in Forza Italia, alla carriera da docente universitario e alla vicinanza con la Lega, gli agganci di Arata per sbloccare autorizzazione e far andare avanti i progetti, soprattutto due, sul biometano a Calla Tafimi e Francofonte, sarebbero stati soprattutto politici, dagli assessori regionali Alberto Piero Bonne e Toto Cordaro, al presidente dell'Arsi Gianfranco Micicè, fino all'ex ministro di Cica, Logi Romannino. Nessuno di loro però al momento risulta indagato.